Scatta la corsa ai fornelli con i pugliesi e i salentini che trascurreranno oltre tre ore in cucina per imbandire le tavole del cenone della vigilia e del pranzo di Natale che oltre 9 su 10, l'89%, sceglieranno di consumare a casa propria o con parenti o amici. E la top 10 dei prodotti degli acquisti dei consumatori, stilata da coltiretti, registra un aumento degli acquisti del 37% dell'olio extravergine di oliva, sia per la cucina che per i regali gastronomici, del 23% del vino, del 39% delle farine, del 69% del pesce e del 25% della carne. Le tavolate sono in media di 8 o 10 commensali. Tra chi si occuperà del pranzo, l'85% preparerà personalmente il pasto, con un ritorno al fai-da-te spinto da motivazioni diverse, soprattutto i giovani ormai si gratificano ai fornelli e la cucina e il buon cibo si affermano anche tra le nuove generazioni come primarie attività di svago e relax. C'è anche un 7% che ordinerà tutto da asporto, mentre il restante 4% si affiderà alle pietanze portate da parenti o amici. La paura della ripresa dei contagi non sembra riuscire a frenare la voglia di un ritorno alla socialità delle feste, testimoniata dal fatto che la media di persone a tavola risale quest'anno a 8, appunto una in più rispetto allo scorso anno, e ben 4 rispetto al Natale 2020, quando il lockdown e le misure restrittive avevano imposto precisi limiti anche nell'ospitalità e nelle presenze. La spesa media per il Natale a tavola nel Salento e in Puglia è di 150 euro a famiglia, ma c'è chi supererà anche i 300 euro.